Ora è ufficiale, da domenica le marche tornano zona gialla Da lunedì test sierologici in farmacia, dal 18 dicembre tamponi di massa Il Natale che non ti aspetti si conferma in modalità digital Calcio, derby, vi spano alle porte, la carica di Flavio Lazzari Grazie per la visione Ben ritrovati a Rossini News il nostro telegiornale della sera Con tutte le principali notizie di questo venerdì 4 dicembre Per quelle che riguarda la provincia di Peso Rubino e anche la regione Marche Quanto mai attuale infatti il discorso sulla regione Perché proprio a questa è dedicata l'apertura del nostro telegiornale Ovvero al ritorno in zona gialla delle Marche a partire da domenica 6 dicembre A dare l'annuncio di questa ufficialità il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli Che alle 16.30 di oggi lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook Acquaroli che scrive come questa notizia fa enorme piacere Ma non deve essere considerata una esenzione di responsabilità Il colore della regione è nelle vostre mani Così Acquaroli si rivolge ai marchigiani che da domenica vedranno allentate alcune restrizioni Che sono state presenti in queste settimane di zona arancione Ma nel frattempo ieri è arrivato il nuovo DPCM che è entrato in vigore da oggi Che ha introdotto forti limitazioni ad attività e spostamenti durante le festività natalizie Provvedimenti reputati penalizzanti dal direttore provinciale di Confcommercio Amerigo Varotti Che noi ascoltiamo in questa prima intervista Il provvedimento comunque del DPCM approvato ieri È un provvedimento molto penalizzante per il settore del turismo, del commercio e della ristorazione Come sempre sono i settori trainanti dell'economia nazionale Ma sono i settori che vengono pesantemente colpiti Mentre c'è un mondo che va avanti, trasporti, delle fabbriche, altre attività economiche Il settore colpito è questo, che rappresenta il 75% della ricchezza nazionale Io non ho capito dove vogliono andare a parare questi del governo Quando proprio il settore che traina, che non sono le fabbriche, viene colpito in questo modo irrazionale La risposta a queste limitazioni ai ristoranti ufficiali viene proprio dai dati del Covid Cioè c'è non i fatti non si sa dove, festiciole più o meno private, assembramenti comunque non nei locali pubblici Quindi c'è un accanimento nei confronti di chi rispetta le regole che è inaccettabile Anche perché nel settore della ristorazione il 20% del fatturato lo si fa in questo periodo Con le limitazioni al transito delle persone da comune a comune Con le chiusure per Capodanno che non si può festeggiare Siamo allibiti anche per l'inapplicabilità di alcune norme Pensiamo nel settore del commercio Attività che sono all'interno dei centri commerciali o comunque denominati gallerie o aggregazioni di negozi Staranno chiuse nei giorni festivi e prefestivi Gli stessi negozi però fuori dalle aggregazioni stanno aperti Tra la penalizzazione per le chiusure anticipate, la non apertura serale Che noi speravamo almeno fino alle 22-23 venisse consentita la possibilità anche ai ristoranti di lavorare anche la sera Invece no, solo a pranzo, chiusura alle 18, no il Capodanno, no il Natale di fatto Perché poi col fatto che non puoi muoverti dal comune di residenza Se uno ha la sfortuna di abitare in un comune dove non c'è neanche il ristorante Non si muove, non si mangia il giorno di Natale Se poi c'è un ristorante in un piccolo paese Ma il ristorante è famoso, dovrebbe dare da mangiare solamente ai residenti del comune Penso a tanti borghi dove abitano pochi anziani e poc'altro Quindi vuol dire non lavorare E come avete sentito fa discutere il divieto di spostamento fra regioni a partire dal 21 dicembre E fino al 6 gennaio Che diventa addirittura divieto di spostamento fra comuni Nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno Una sofferenza che si acuisce in territori di confine come Carpegna Che oltretutto tocca con mano anche il blocco degli impianti sciistici previsto in questo DPCM Ne abbiamo parlato proprio con il sindaco di Carpegna, Mirko Ruggeri Penso che alla fine sia inevitabile Se si vuole limitare il contagio Penso appunto che sia inevitabile Siano inevitabili tutte le tutele che il governo e la regione hanno adottato Chiaramente subiamo questa cosa Però la capiamo Nella speranza appunto che chi avrà danno da quelle che sono queste limitazioni, queste prescrizioni Poi comunque abbia anche il giusto ristoro da quello che è lo Stato, da quello che è la regione Chiaramente noi siamo al confine proprio con l'Emilia-Romagna Siamo l'ultimo paese a nord delle Marche E quindi diciamo che il limite al passaggio tra regione e regione per noi è acuito Perché comunque abbiamo rapporti di vicinato, rapporti economici di lavoro E anche di parentere con i paesi della vicina Romagna Ma anche della vicina Toscana Perché anche il comune di Sestino è vicino a noi E quindi li sentiamo in maniera particolare E per quanto riguarda il discorso del turismo Anche questa chiusura degli impianti sciistici In qualche modo ci riguarda molto da vicino Perché tutto il comprensorio del Monte Carpegna Quindi tutti i paesi che comunque sono interessati Dalla presenza di turisti legati all'attività dello sci e della neve Per questa mancanza avremo sicuramente un danno economico Quindi sia noi che Montecopiolo, Pietrarubbia Ma anche Pennabilli nella vicina Romagna Ecco dicevo, purtroppo sono misure che secondo me sono inevitabili E il governo deve essere bravo e attento A far fronte alla mancanza di queste risorse economiche Che verranno a mancare per il mancato arrivo dei turisti E provvedere ai dovuti ristori E un grave incidente stradale avvenuto questa mattina a Pesaro In zona Case Bruciate L'incidente ha riguardato uno scuterista che è ora in gravi condizioni E infatti intervenuta l'eliambulanza che ha trasportato il ferito al Torrette di Ancona Si attendono sviluppi sulle condizioni di salute del signore che è rimasto vittima dell'incidente Un incidente che ha creato gravi disagi alla circolazione stradale E dal 18 dicembre comincerà a Pesaro lo screening di massa con tamponi rapidi A disposizione gratuita e volontaria per 800.000 marchigiani Questo è il provvedimento deciso dalla Regione Marche Mentre da lunedì invece i test sierologici si potranno effettuare a Pesaro anche in farmacia Tante novità nella prevenzione al Covid-19 che ci vengono illustrate nel dettaglio in questo servizio Tamponi rapidi, gratuiti e su base volontaria a disposizione di più di 800.000 marchigiani Oppure test sierologici che ora arrivano anche in farmacia al prezzo concordato di 19 euro Insomma dicembre si annuncia un mese senza precedenti in termini di prevenzione e mappatura al Covid-19 delle Marche Anzi i tamponi di massa hanno un solo precedente in Italia Solo l'Alto Adige prima delle Marche ha sperimentato una pratica fortemente voluta dal governatore Francesco Acquaroli Per superare il ritardo regionale nel processo dei tamponi e arginare definitivamente la seconda ondata pandemica Acquaroli ieri si era annunciato le date A Pesaro, così come in tutti i capoluoghi di provincia, si comincia venerdì 18 dicembre A Fano, come nelle altre città marchigiane sopra i 20.000 abitanti, si continuerà un paio di giorni dopo Nelle città marchigiane sotto i 20.000 abitanti lo si farà a gennaio Screening di massa per un obiettivo di 698.651 abitanti nelle città superiori ai 20.000 abitanti Arrivando fino a 819.479 considerando i paesi più piccoli Tradotto, più di metà della popolazione marchigiana può sottoporsi a tampone gratuitamente E su base volontaria per quella che Acquaroli ha definito uno sforzo notevole ma necessario per isolare il virus I tamponi utilizzati saranno i test antigenici rapidi con stick naso e gola esattamente come i test molecolari La differenza sta nei tempi immediati di risposta all'esame, che arrivano dopo qualche decina di minuti Potranno sottoporsi al test tutti i cittadini, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni Sono escluse anche le persone positive al contagio negli ultimi tre mesi Chi ha già sintomatologie da Covid-19 Chi è in malattia per altri motivi Chi è già in isolamento fiduciario Chi ha già prenotato un tampone molecolare E chi già si sottopone a test per motivi professionali Si sanno le prime date ma tutto il resto è ancora in fase organizzativa Dal coinvolgimento di Croce Rossa e Asur ai luoghi in cui effettuare lo screening di massa A Pesaro si valuta l'ipotesi della vitrifrigoarena A Fano quella del Codma E cala ancora il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati nelle marche Oggi è un'incidenza percentuale scesa al 17% Dopo il 18% di ieri e il 26% di due giorni fa Nel dettaglio oggi 4 dicembre i casi positivi nelle marche sono 492 Di cui 105 in provincia di Pesaro Urbino Casi rilevati su 2857 nuove diagnosi per un totale di 4817 tamponi processati Continuano anche le dimissioni dagli ospedali Con i ricoverati nelle marche che scendono ora a 605 Di cui 87 in terapia intensiva Per quanto riguarda i decessi Se ne sono purtroppo registrati 7 nella giornata di ieri In tutto il territorio marchigiano Restiamo in tema di sanità Perché è stato eletto il consiglio direttivo Dell'Ordine Provinciale degli Infermieri di Pesaro Che rappresenta 2375 iscritti Alla presidenza è stata confermata Laura Biagiotti Che rimarrà in carica fino al 2024 Ed ora lo spazio come sempre dedicato alle vostre segnalazioni Che vi invitiamo naturalmente a sollecitarci Al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 Numero al quale potete inviarci video, fotografie Ma anche semplicemente informazioni su quello che va o non va nel nostro territorio E in questo caso siamo contenti che a distanza di pochi giorni Le riprese della nostra telecamera Siano state da sprone all'intervento di pulizia degli organi competenti È successo con un abbandono di rifiuti in strada Fornacevecchia Qualche giorno fa È successo almeno parzialmente anche nella ciclopedonale di via Colbe Come ci mostra il video inviatoci da Mirko Un nostro telespettatore disabile Che aveva sollecitato l'intervento di Rossin TV Buongiorno Volevo farvi presente che il vostro servizio è andato a buon fine Parzialmente perché è stato tagliato l'erba, è stata pulita Ma come vi ho detto l'altra volta Questo pezzo di strada non la fanno mai Come solito lavora l'italiana, sono tutti lavori a metà Hanno lasciato l'erba alta Perché dicono che questo pezzo è abbandonato Ma io non capisco perché Qualcuno non provvede a questo sistema Hanno lasciato tutto come prima Niente da fare Il vostro servizio è andato a buon fine a metà Le proloco della provincia di Pesaro e Urbino Con la collaborazione di Confcommercio Hanno presentato questa mattina L'edizione 2020 del Natale che non ti aspetti Un brand di iniziative sul territorio ormai consolidato Ma che è obbligato a riformularsi in versione digital Come ci spiega Damiano Bartocetti Presidente dell'Unione delle Proloco Provinciali Siamo fortemente preoccupati come proloco Perché la difficoltà è enorme anche per le proloco Perché stanno vivendo le proloco un momento di difficoltà Anche economico molto importante Perché chiaramente senza eventi le proloco si autofinanziano Quindi c'è un problema economico molto importante Però noi ci teniamo particolarmente al Natale che non ti aspetti Quindi abbiamo chiesto con le mani e con i piedi Abbiamo fatto con forza tutte le proloco Di mettersi in piedi per organizzare il brand E per mantenere il brand del Natale che non ti aspetti Della provincia di Pesaro e Urbino Che negli anni passati ha portato 260.000 turisti Tanti pullman Una grossa economia nel nostro territorio L'abbiamo portato in formato digital Quindi partiamo dall'8 di dicembre Con il Rosso Speranza Quindi tutti i 25 borghi che quest'anno sono aumentati Siamo partiti prima da 14 a 17, 18 Ora siamo arrivati a 25 borghi 25 proloco che hanno aderito al progetto del Natale che non ti aspetti L'8 di dicembre alle ore 17 Alla stessa ora tutti i 25 borghi accenderanno il fascio di luce rosso Rosso Speranza Quindi la speranza di questo momento che stiamo vivendo La tradizionalità del Natale che chiaramente ci mette in difficoltà Ma abbiamo soprattutto voluto dare un risvolto alle attività economiche Che negli anni hanno contribuito alla realizzazione dell'evento del Natale che non ti aspetti In maniera digitale abbiamo messo da oggi online il natale che non ti aspetti.it E su questa piattaforma si troveranno i ristoranti Si troverà tutto quello che riguarda l'artigianato artistico del nostro territorio E sui nostri canali social avremo varie puntate Quindi invitiamo tutti a seguirci sui nostri canali social Ci sarà Babbo Natale il 20 di dicembre che parlerà ai bambini E da tutta Italia premeremo un contest sull'albero più bello Quindi le foto che ci arriveranno l'albero più bello verrà premiato Purtroppo è in forma digitale Quindi l'economia la vede Purtroppo abbiamo un'economia un po' buttata giù e abbattuta Cerchiamo con questi canali di aiutare i ristoratori Di aiutare i produttori tipici locali Di aiutare l'artigianato artistico Ma soprattutto di mandare un messaggio di speranza E un messaggio di acquisto locale Cioè dobbiamo acquistare locale Ed ora lo sport perché dopo la totalità di tamponi negativi nel gruppo squadra Domenica alle 17.30 torna in campo la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Che sarà impegnata a Treviso sul campo della De Longhi Una partita di cui il nostro Marco Cadeddu ha parlato approfonditamente Nel nostro seguito programma TV insieme a Canestro Che va in onda ogni giovedì E che potrete rivedere in replica anche sabato alle 16.15 Alle 22 e domenica alle 10 e alle 15 Ma domenica alle 17.30 c'è anche l'appuntamento più atteso per gli appassionati di calcio Perché allo stadio Benelli purtroppo a porte chiuse Si giocherà il derby tra Vispesaro e Fano Sarà il derby numero 101 E noi abbiamo voluto parlarne con chi ha fatto il gol partita E il gol vittoria delle derby numero 100 Ovvero il trequartista della Vispesaro Flavio Lazzari Che è stato intervistato ai microfoni di Giorgio Ricci Arriviamo all'appuntamento come si concerna ad un derby Cioè carichi con la giusta voglia Sappiamo che per noi è una partita importante Per la città è una partita importante Quindi più di ogni altra cosa teniamo a fare un risultato positivo Vadova è stata una partita strana Che ha mostrato le nostre fragilità Nel senso che abbiamo preso il primo gol E ci siamo un po' disuniti Questo non deve accadere Sinceramente preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno E vedere la reazione che c'è stata poi Nel secondo tempo E anche in considerazione del fatto Di un arbitraggio diciamo un po' dubbio Su alcuni episodi soprattutto Sono speranzoso Abbiamo dato continuità sicuramente Ma questo lo vedo anche negli allenamenti A una voglia e a un carattere Che piano piano sta uscendo fuori Ora dobbiamo cementarlo Perché dobbiamo avere la barra più dritta E avere soprattutto un cammino più costante da qui in poi Il Fano è un avversario che nel derby risulta temibile Uno non deve guardare la classifica Perché i derby sono partiti a parte Quindi non contano posizioni in classifica A nomi dei giocatori Ma conta chi dà tutto in campo Conta la voglia di portare a casa un risultato Che è fondamentale Quindi sinceramente Non voglio essere presuntuoso Ma io guardo in casa mia Non guardo troppo al Fano Però il tuo è stato l'ultimo gol In un derby con il Fano Quali ricordi hai di quella serata? Belli perché comunque Era da poco scomparso Cesco Che era uno dei nostri tifosi più accaniti La curva, la piazza ci tenevano molto Che in suo onore Vincessimo quella partita E così abbiamo fatto Io da quando sono a Pesaro Ho giocato tre derby Non ne ho perso nemmeno uno E non intendo sicuramente cominciare Da domenica prossima Però questa volta sarà un derby senza tifosi Ma i tifosi sentono più di ogni altra questa partita Ve lo stanno facendo recepire? Lo avete capito in settimana? Sì Sicuramente Sicuramente lo fanno capire Ce lo dimostrano Nel mondo odierno Comunque con i social Con tante cose Vediamo che la città Insomma è in fermento La nostra tifoseria in fermento Ma per una partita che ha un doppio valore Però diciamo che Ci hanno seguito E ci stanno vicini Dall'inizio del campionato Io da quando sono qui Ed è sinceramente Triste non poterli vedere allo stadio Ma in generale parlo proprio I stati vuoti Ci stanno togliendo un po' Un po' di quella passione Anche un po' di quella Di quella rabbia agonistica Di quella voglia che ti viene Quando senti il tuo popolo Urlarti dietro Incitarti Capito Quindi Spero e mi auguro Che possano tornare al più presto Perché Tutto il calcio Ne ha bisogno dei tifosi Non solo noi che giochiamo E con le notizie di sport Si conclude questa edizione Di Rossini News Prima di salutarci Vi ricordiamo però Qualche appuntamento A cominciare da quello Che comincerà alle 20 Dunque subito dopo A chi ci segue Nella prima edizione Di Rossini News Con il sindaco di Valle Foglia Palmiro Ucchielli Che in diretta Risponderà ai cittadini Vedete anche il numero Whatsapp Dedicato 3201532912 Per inviare le ultime domande A Palmiro Ucchielli A seguire Alle 21.15 La nostra prima serata Prevede Di proiettare L'accensione dell'albero In piazza 20 Settembre Accensione Che è avvenuta ieri Nella piazza Fanese E che vi riproponiamo Con tutto il suo spettacolo Questa sera Appunto Alle 21.15 Domani Torna anche La rassegna stampa Del sabato Buongiorno Rossini Sempre in diretta Dagli studi di Rossini TV E sarà condotta In questo caso Da Antonio Astuti Poi Domenica 6 dicembre Vi trasmetteremo Future Day Pesaro Next Generation Un appuntamento Tanto atteso Che si terrà domani E che potrete Rivedere Appunto Domenica Sera Alle 21 Ed è davvero tutto Per questa edizione Di Rossini News Da parte Di tutta la redazione Di Rossini TV Un cordiale saluto E un buon proseguimento Con i programmi Di Rossini TV E un buon proseguimento E un buon proseguimento E un buon proseguimento